Qual è il rapporto tra regista e direttore della fotografia? Spielberg in una delle primissime interviste diceva il mio braccio destro è il direttore della fotografia. E questo è fondamentale perché chi veramente prepara l'inquadratura, chi mette in pratica il tuo piano su un set di alto livello, è il direttore della fotografia. Quindi tutta la tua pianificazione, tutto il tuo progetto poi viene messo in discussione o messo in elaborazione pratica da questa figura che non può essere un esecutore tecnico ma deve essere un artista con il quale tu dialoghi per arrivare al massimo risultato possibile, che senta il tuo progetto nel come muove la telecamera, nella luce che inserisce, nella coerenza che inserisce nella storia rispetto al progetto che avete stabilito insieme. Perché se il regista ha l'obiettivo di raccontare nel miglior modo questa storia e pianifica e fa delle scelte, allora la messa in pratica del direttore della fotografia è la diretta conseguenza fondamentale per la massima espressione di questo tuo piano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.